Allora Silvia, complimenti, titolo italiano, come ti sei sentita in acqua? Allora, io non posso fare un'analisi senza considerare che io fino a ieri sera avevo un po' di febbre, quindi purtroppo mi sono ammalata sabato e a quattro giorni dalle gare potevo fare ben poco, ho finito l'antibiotico cortisone due giorni fa, quindi almeno sui 50, visto che avevo una condizione molto buona fino a sabato, ho provato insomma, però sai, questioni di centesimi, sono a due decimi dal tempo, non è che sono ad una vita, io ero venuta qua per qualificarmi e insomma a fare il mio, ci ho provato, ora vediamo domani mattina ci sono i 50 delfino, vediamo, purtroppo contro queste cose si può far poco, però è bello che tu effettivamente ne parli in maniera molto serena, non è una cosa che è di pisa da te? tre giorni fa non ero così serena, perché ovviamente il pianterello me lo soffato, perché sai arrivare così vicino non c'è neanche tempo di magari curarsi e poi riprendersi, sono venuta un po' qua ancora così, tant'è che ieri ho fatto il riscaldamento ma la sera un po' di febbre ce l'avevo, ora vediamo, purtroppo succede di peggio, visto che non è che sia proprio la tragedia della mia vita, spero comunque di riuscire a far parte della squadra del mondiale, ora vediamo domani mattina, cioè sapete, la vasca corta comunque a me piace farla, quindi ci tengo molto. in bocca al lupo allora, grazie.